Quest'anno, l'8 marzo, un D.P.C. ha ritaccato a casa in un buon d'immagine. Ognuno l'ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero. Quest'anno, appunto, da questo giorno, per questa triste e mesta epidemia, anch'io ci resto e con dei fiori ad orno ho barconciato fuori a casa mia. Sabato mi è capitata un'avventura. Siccome mi serviva del formaggio, marron si ci pensa che bruttura. Andavo al market concedendomi quest'aggio. Uffatechist, statemi a sentire. S'avvicinavo allora la chiusura, e io, tomo-tomo, stavo per uscire, buttando un occhio a qualche confettura. Chi si accaparrava cibo per un mese, non avendo rispetto per nessuno, carrelli pieni di mille pazze spese, chiedendosi «ma ci arriviamo, potremmo?». A casa di Coca-Cola un coppa a tutto, sotto una busta piena di datterina, tre rezze di vongolo con una cesta di frutti, cannella, cannellone e biscottino. Proprio a distanza di un metro, questa signora gestiva nata la donna piccerella, arrugnata e senza protezione, ma sotto il naso solamente una sciarpella. Prendeva in manella poche cose, stringeva due uova, latte, una panina, guardando che pena mi faceva e vado con me in fama questo destino. Questa è la vita che per me pensavo, chi tiene tanto e chi non tiene niente. Ma questa povera signora si aspettava, che pure questa epidemia era fatente. E mentre fantasticava questo pensiero, buttava in tuo carrello i panzerotti, pure se l'aveva fatta là da sera, immaginata a volte che mi porta. Ma tutto a un tratto che venga lontano e due signori avvicinarsi da parte mia, pensavo «Sì, fatta a me mi pare strana, ma perché ha il lucco in questa corsia?». «Da voi vorrei sapere, cara donna, con quale ardire e come avete osato, chiedermi di cedervi senza vergogna un lievito di birra dal mio cartonato. La precedenza è sacra e va rispettata, voi perdeste il senso e la misura. Stasera la pizza voi non hanno bastato e non vorrò niente, ve lo giuro». «Signora cara, ma non è colpa mia, io non vi volesse disturbare. Sono lento, tengo lasciato al giro, ma vuoi tutto questo lievito che una vita fa?». Solo con un pozzuolo io sarei contento, facessi una pozzella a figli, ma soffi e proprio me lo vi, in questo momento, mi trasessi rinnovato a me. «E cosa aspetti, vecchia spennacchiata, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stata assai educata, avrei chiamato già la vigilanza». «E fammi vedere, e chiammi questa vigilanza. La verità, signora, mi sono scusato di sentire». «E si perde la pazienza, ti faccio strascini. Ma chi ti chiederessero, non dico? Ma vuoi capire che non siamo uguali. Come rischio tu, rischio pure. Sto capito, sai? C'è vero tale e quale». «L'urida pezza, come ti permetti di paragonarti a me, che del Codugno e del Pasquale sono amica dei primari, abbiamo mangiato insieme pure a Natale». «Ma tu qua Natale, Pasquale e Giuseppino, ti puoi mettere in capo in questa cervella che stai malato ancora in fantasie». Questo virus, lo sai che è? È una livella, un re, un grande uomo, una capestata, sicuramente ora ha fatto punto che può morire in un momento nato. Tu non ti hai fatto ancora con questo conto. Perciò stiamo assentando un fatto con questo. Se sei egoista, tu ci sbattiamo anche, perché a questo mondo siamo tutti stessi. È questo che c'è il virus. «Costu virus». Grazie a tutti